Roberto Renzi subito al lavoro per l'affiliazione della sua samba alla FIGC. È questo lo step immediato da realizzare con la presentazione di tutta la documentazione necessaria entro il prossimo 5 giugno attraverso una nuova società che è stata costituita ieri sera negli uffici del notaio Maria Elisa D'Andrea. Non più l'unipersonale che ha permesso a Renzi di partecipare e di vincere l'asta, ma una società di capitali che ha la denominazione di associazione sportiva sanbenedettese SRL. Oltre all'affiliazione, il neopatron Rosso Blu dovrà mettere a punto l'operazione forse più complicata e cioè quella relativa all'adempimento dei debiti sportivi che a conti fatti si aggirano intorno al milione di euro comprensivi di stipendi per i tesserati e contributi previdenziali. Per quanto riguarda invece i 200.000 euro risultanti dalla ricurtazione degli stipendi dei calciatori, i curatori hanno sempre affermato che l'accordo valeva con chi si sarebbe aggiudicato l'asta fallimentare. In tal senso Renzi ha contattato i legali dell'asso calciatori per avere un quadro chiaro della situazione e vedere se potranno essere risparmiati o andranno ad aggiungersi al debito sportivo. Inoltre alvia anche l'operazione relativa al pagamento degli stipendi dei calciatori per ottenerne così le liberatorie. Insomma saranno giorni frenetici per Renzi che dovranno portare alla permanenza della Samba in Serie C. Il neopatron Rosso Blu ha anche visitato le strutture sportive della zona, a partire da Samba Village, Stella di Monsampolo, per il quale nei prossimi giorni è in programma un summit con l'amministrazione comunale.